L'India dai grandi contrasti, l'India dove ciò che tu fai è veramente un'esperienza unica, un'India dove per fare 100 km ci metti 4 ore, dove quando ti danno una previsione di 1 ora ce ne metti 2, è un'India veramente particolare, è un luogo veramente particolare, pensa che tutto quello che accade qui ha dei ritmi completamente diversi, è una realtà completamente diversa, non riesci neanche ad immaginare un mondo talmente tanto diverso da toglierti tutti i punti di riferimento e questo ti permette una grande crescita, ti permette di entrare nell'accettazione di un mondo completamente diverso da quello in cui tu vivi, ti sradica completamente tutte le sicurezze e il fatto di non avere più sicurezze, più certezze ti concede di fare veramente un salto nella tua vita, perché tante volte nella nostra vita ci troviamo di fronte dei cambiamenti, abbiamo bisogno di adattarci, diventare resilienti a ciò che la vita ci propone e quindi l'esperienza del viaggio può essere un buon modo per allenarsi in questo e può essere un buon modo per diventare flessibili e per imparare ad amare anche ciò che è diverso da ciò che noi ci aspettavamo, anche ciò che è diverso da ciò a cui siamo abituati. Tutto quello che ti permetti di vivere fuori dai tuoi schemi, fuori dalle tue abitudini, ti permette di crescere ed è questo che è importante per noi. Ciao!